Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Ma intanto mi preoccuperei molto per la condizione degli ostaggi e non capisco perché la condizione degli ostaggi non venga messa al primo posto, visto che si tratta di più di 200 persone. Oltre a questo ovviamente domani abbiamo questa buona notizia dell'apertura del valico che consente gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, ma veramente ci siamo trovati di fronte ad una situazione molto preoccupante, cioè con una risposta che si è indirizzata indiscriminatamente nei confronti della popolazione civile, cioè il taglio dell'energia elettrica, il taglio che ha colpito anche tutti gli ospedali a prescindere dalle polemiche e dalle propagande sui missili che si abbattono sugli ospedali. Ma quando tu togli l'energia elettrica a un ospedale, cioè vuol dire che quelli che ci stanno dentro sono quasi condannati a morire. La chiusura dell'acqua, ecco è una cosa veramente terrificante da un certo punto di vista, che ti fa capire anche che c'è qualcuno che ha il rubinetto che ti può chiudere l'acqua, che è un bene primario, quando e come vuole. Detto questo, sono preoccupato sia per gli ostaggi, sia per la condizione della popolazione civile e credo che la... Civile palestinese a Gaza. Civile palestinese a Gaza, si tratta di milioni di persone, tra cui tantissimi bambini, e credo che l'opinione pubblica mondiale si debba mobilitare, soprattutto per chiedere il cessato del fuoco e la preoccupazione che deve essere dominante è quella della vita delle persone. Poi se tu mi chiedi, sono 50 anni che mi occupo della condizione terribile dei palestinesi, delle case... Eh aspetta, ci arriviamo, aspetta.